Vetture progettate dai migliori ingegneri, guidate al limite e oltre dai piloti più veloci. Scuderie che vincono il tempo, i piloti vanno e vengono, ma il passato vive per sempre. Gareggiare il circuito di legge, dove una frazione di secondi decide chi trionfa e chi viene sconfitto, dove la vittoria emerge all'ultimo istante. Qui si iscrive la storia. Questa è Formula One. Finito, pronti? Finito, pronti? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Vai, via. Abbiamo conservato. a tutti. 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 a tutti.